presentata presso l'aula consigliare del comune di agropoli la nuova opera letteraria di gennaro guida 100 parole edizioni largo libro impreziosita dalle illustrazioni e traduzioni in inglese di rosa cianciulli presenti all'appuntamento culturale oltre agli autori milena esposito fondatrice casa editrice largo libro elvira serra vice sindaco di agropoli francesco crispino delegato alla cultura del comune anna vassallo dirigente scolastica biancarosa di ruoco attrice e regista gennaro guida rappresenta uno degli scrittori più efficaci che il territorio cilentano può vantare alla capacità di coinvolgere e conquistare i lettori più piccini ai quali il libro è rivolto ma anche i grandi un vero talento il libro è composto da racconti di 100 parole sufficienti per affrontare nel gioco dei contenuti temi importanti amicizia rispetto amore pace avventura impegno giustizia fantasia il testo è ricco di immagini e luce con le bellissime illustrazioni narranti di rosa cianciulli che ha curato anche le traduzioni dei racconti che rimangono di 100 parole in un inglese semplice fornendo un valido strumento di lavoro per avvicinare con gioia i bambini allo studio della lingua scrivere un libro per ragazzi per bambini non è facile perché bisogna trovare le parole semplici parole che siano facilmente comprensibili e che rispondano a delle domande perché bambini i ragazzi fanno tante domande e quindi bisogna scrivere qualcosa che loro non ingegnero dei dubbi esco da questo incontro con l'autore gennaio guida veramente arricchita perché gennaio è riuscito in maniera molto dolce allegra a coniare la fantasia con la realtà perché quello che può accadere è che un bambino legga delle storie irreali e poi si scontri con la realtà e che cosa accade questo che crescendo vedendo una realtà che non era quello dei libri che aveva letto da bambino può sentirsi deluso invece gennaio che cosa fa è un bambino dentro di lui che vuole raccontare il mondo ma lo racconta per come lo vede anche da uomo adulto un grande autore un autore nostrano un autore del cilento che con questo libro veramente riesce a comunicare ai bambini le emozioni riesce a far diventare cento parole racconti in poesia un libro particolarmente bello dedicato all'infanzia ma non solo dove oltre a gennaio guida c'è anche rosa cianciulli con le sue magnifiche illustrazioni un libro che consigliamo a tutti soprattutto alle scolalesche ai bambini e alle bambine gennaio guida nuova pubblicazione cento parole perché questo titolo perché era una sfida scrivere dei racconti per bambini usando solo cento parole che se vogliamo sono più che sufficienti per dire quello che vuoi dire di importante quindi proprio una sfida alla scrittura breve ma importante per me testo indirizzato soprattutto agli all'infanzia c'è ma i bambini delle scuole elementari però giustamente come nelle prefazioni ma anche nelle presentazioni che mi hanno fatto mi hanno fatto hanno tutti detto è un libro che fa riflettere anche gli adulti e quindi insomma diciamo che è un libro che si presta alla lettura anche per i grandi con 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 utile utile secondo me sentimento